si scorpi hai voluto venire a darmi un bacino ragazzi voleva un bacino è voluta darmi un bacino allora secondo me o andiamo al nostro spottega o a niente farà vedere il coso del ping che si muove sulla mappa e lo segue con la zampa ti giuro allora siamo con nati zia anche da parecchia gente te lo dico questo l'anda molto molto meglio male ila non ha ancora imparato lo spot a questo posto non dire così lontanissimo ha fatto la curva da sinistra sbagliato dopo la destra prendo le armi e quale è anche la paura di vercelo già addosso non puoi guidare ultima di per un passi sono qua farà farà rampicata 40 white un altro ecco da me 36 white la bravissia con lo scudo ah stavolta mi ha dato le armi zia stavolta mi ha dato qua l'arma viola quindi a volte le da le armi il pacchetto si ma non sempre fagotto panzoso non mi puoi stare sulla schivania ti sto continuando a far scendere lo capiamo o no che se faccio le rank ed io non posso come passo non mi guardare con quella farsa non fare la furba che ti vedo si che è un loot si che è un loot case tipiche nordiche perché hanno i tetti spioventi capito per la neve se no si ferma sopra palesemente classica cittadina austriaca questa anche ma anche tipo trentina aia farà buono 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 smettila farà ti devo buttare giù no ti butto giù farà come faccio io a giocare con te che ti appiglia la mia maglietta mi starlappi tra un po' le tette porco due c'è niente sì dai dai testate bravi sei un fenomeno farà farà basta giù stai buona medaglia sulla destra medaglia sulla destra le avventure di giorge farà prossimamente sul grande schermo e indovina dov'è farà nuovamente provo a indovinare dove sta il medaglione indovina dov'è farà sulla scrivania perché non capisce che deve stare giù sta cazzo di fetente devi stare giù capito sali dopo dopo non mi strappare le cuffie mi stai strappando le cuffie fetente vuoi check inare quelli col medaglione vuoi farli uga bunga vuoi farli boom boom vuoi farli wata wata giocare le rank ed col gattino è un'avventura ragazzi un'avventura zero concentration no no concentration there is there is so much of concentration but my concentration is vincolated by a fucking cat ok consigliate di mangiare domani cosa vuoi ma se il gattino continua a salirmi sulla scrivania gattino al forno si scherza ci sacciamo don't touch my fara ci hanno sparato da dove da sinistra ok ti boxi qua andiamo via no mi son boxata per coprirmi ce l'ho davanti tipo anche ce l'abbiamo davanti la ho missato sono una bot io volevo andarmene di la quindi questo qua niente non lo tentiamo ma sono i medaglioni chicco no questo davanti no il medaglione è quello a sinistra dal ponte qua c'è l'altiporoso qua c'è uno che senza medaglione qua non è il medaglione ila ma è al centro dell'aura gialla il medaglione come fa a essere col medaglione non ho capito eh tu volevi pusharli lo vedo qua sotto uno knock qua c'è l'altro qua da me c'è l'altro si si ma sto noccando quello come stai noccando quello blocco il tipo mi sono già nata nel box mamma mia il pompa spammone raga mamma mia buono abbiamo 4 kg ci siamo in 12 possiamo farci un bel endgame sarebbe buono cecchinare che al medaglione vediamo un po cosa riusciamo a fare il loot c'è tu hai medikit giusto mi stanno aspettando i due bro li facciamo un ballettino oh si dai ok lo salutati con un ballettino che abbiamo due spectre ragazzi perché poi è qua perché poi all'alba sorgerò ecco qua quello sull'auto gialla sta nuotando il bro ok ma riesce a venire avanti o no però proprio qua c'è uno corre no l'ho missato zia correva dritto vai sinistra tu è uscito blu crackato c'è anche il medaglione lui 26 crack di nuovo bravissima zia cosa posso prendere prendi tu il medaglione ok ti rubo questo vai tenilo tu lancia granate lo vuoi tieni prendi io ho mini e flopper scudo occhio che due volano stai chill dobbiamo andare in safe i mini mini perché c'ho i flopper scudo veloci dai vieni arrivano qua ila con lancia granate bravissima vai spacco spammo 30 white spammo 30 l'amica 30 di nuovo 60 ok gli altri che ci chinano dentro ila si vai il copro lo so è che spamma col coso capito se ci becca fa male lo so gli altri stanno ruotando ila si è boxato boxati boxati hanno distrutto il coso ila mi hanno fatto male brava che ti espandi niente questi ci stanno no vabbè il lancia madonna il lancia il lanciapalle di neve 30 doppio 27 occhio che al cecchino ila bravi se non cosare aia aia non vuole morire 105 quello in acqua 30 30 white però c'ha il medaglione lui aspetta no fara non provare a salire adesso perché ti giuro io anche uguale questo vola è qua da me salgo più naig però si 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 sta lì no mi è bloccato aiuto sto salendo sto salendo fara madonna no fara scendi porco due ok wait un attimo che la devo buttare giù fara basta non riesco fara porca puttana dobbiamo vincere sto game continua a salire fara no fara 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 ancora vai un attimo vado con impulso allora poi si poi dopo aspetta quando arrivi attaccata al culo la butti qua dietro ci sei? quando vuoi vai ok se ti prendevo così bro 37 al mio qua all'alpinista però vado avanti cilla 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 vieni ok devo caricare c'ho fara di nuovo sulla schivania non ci credo tanta tante le finestre madonna addio fara sono i naig sono di qua 105 105 a quello col medaglione 30 crack c'è l'altro però sta salendo in aig mi stava facendo cadere è nel boxy la misa bravissima bravissima anche l'altro c'ha il medaglione prendo si prendi 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 vai dobbiamo uscire c'ho fara sulla scriva 27 bloc si si parezza abbiamo vinto non scappare spaventata abbiamo vinto companetta che mi disturbava raga e vediamo un po e vediamo un po non ci posso credere raga non ci arriviamo ila no come no eh no 93% manca il 7% al champ la mascotte che ha fatto vincere il game verso il champion farti vedere quanto sei bella abbiamo vinto anche se mi disturbavi tutto il tempo mannaggia a te mannaggia a te abbiamo vinto lo stesso so